Riprendono tra entusiasmi e cautele i negoziati sul nucleare iraniano sospesi per la notte. In mattinata si aggiungono al tavolo anche i ministri degli esteri russo, Sergei Lavrov e cinese Wang Yi, a testimonianza del livello raggiunto dai colloqui ginevrini ormai al terzo giorno. In serata, Mohamed Javacharif, il ministro degli esteri iraniano, diceva che molto resta ancora da fare e il segretario di Stato americano John Kerry confermava. Ma la sensazione è che un accordo di portata storica sia ormai vicino. Ieri sera Barack Obama ha aggiornato il premier israeliano Benjamin Netanyahu e di fatto il vertice trilaterale che ha visto impegnati Zarif, Kerry e il capo della diplomazia europea Katrin Ashton torna stamattina ad essere un 5 più 1 con tutti i ministri degli esteri, Stati Uniti, Unione Europea, Germania, Cina e Russia, oltre all'Iran. L'inviata di Euronews a Ginevra conferma, nonostante il fatto che tutti mettano le mani avanti dicendo che ci sono ancora molti ostacoli, dice che nelle ultime 24 ore sono state riorganizzate molte agende di alto livello. La prospettiva di un accordo storico, aggiunge, ha rapidamente trasformato questi colloqui in un vertice ministeriale del massimo livello.